Il confronto fra due dei migliori smartphone usciti quest'anno Blackberry Preve, a sinistra, eccolo qua molto molto bello, colorazione classica di Blackberry e qui a destra, l'abbiamo già visto diverse volte il Google Nexus 6P costruito da Huawei colorazione silver che a me piace molto materiali ottimi, vediamo un po' le differenze dimensionali tra i due uno un 5.7 di schermo e l'altro un 5.4 il Huawei è ben più alto e come larghezza invece siamo praticamente alla pari forse mezzo millimetro in più il Nexus cambia anche dove c'è più differenza è nello spessore che è maggiore sul Blackberry giustamente per la presenza della tastiera fisica ok, miglior grip decisamente sul Preve il Nexus è molto scivoloso quindi tocca stare attenti che è anche abbastanza fragile come materiali soprattutto il vetrino della fotocamera qua in alto questo ha il sensore di impronte digitali questo in più ha l'espansione micro sd 32 giga, 32 giga andiamo subito a sbloccare il Nexus ecco qua basta solo appoggiare il dito come su altri device soprattutto sui di Huawei qui non c'è il sensore ma c'è il double tap e siamo dentro queste sono le due interfacce di questi due telefoni che sono entrambe questa è la stock di Android quella di Blackberry è basata principalmente sulla stock non è una grossa personalizzazione come la Samsung TouchWiz o la HTC Sense ha diciamo però delle implementazioni molto belle che abbiamo visto nella nostra recensione focus sul software di Blackberry per il suo primo Android come lo slide qui per il lato Edge per vedere gli eventi abbiamo questo slide per il Blackberry Hub a destra tutti personalizzabili slide a sinistra per la ricerca universale qui il classico slide per Google Now che è presente anche qui implementato in un'altra maniera ma è presente anche qui so perché ogni tanto va il landscape, il Nexus ok da segnalare che una cosa bella del launcher di Blackberry la vedete subito le iconi sono personalizzate perché si possono mettere gli icon pack è una cosa assai molto rara nei launcher stock di queste aziende poter mettere gli icon pack qui ne vedete uno se ne possono mettere diversi adesso vi faccio vedere uno più classico quello era particolare ok altre particolarità di questo launcher questo è il drawer scorrimento verticale per le applicazioni orizzontale per i widget e le scorciatoie che possono essere anche inserite da tastiera quindi un software molto completo alla fine delle cose sono anche diverse opzioni qui sotto la voce display c'è l'ambiente display entrambi hanno il led notifica e l'ambiente display che praticamente all'arrivo di una notifica lampeggia lo schermo con la notifica per darvi un'anteprima solleva per attivare bordo batteria scheda protettività questa qui l'abbiamo vista prima molto bello anche il multitasking si può scegliere tra questo qui e tra quello classico dei Nexus mentre il tasto cancella tutto e visto che ci siamo vabbè concludo dicendo che mi piace molto di più questa visuale multitasking che è molto più pratica ma visto che ci siamo stiamo un po' l'audio di entrambi questi telefoni iniziamo col Nexus molto buono adesso il Blackberry allora la posizione della cassa innanzitutto in entrambi è frontale in questa parte qui parte qui sul Blackberry l'audio penso che si possa capire anche dal video è meglio come volume e anche direi un po' come qualità sul Nexus più alto più sentono veramente bene le tonalità vince però il Blackberry Preve in chiamata dove l'audio è più alto e caldo in cuffia siamo lì un pochettino migliore il Blackberry Preve gli schermi sono questi qui questi due pannelli hanno la caratteristica di essere vabbè oltre che hanno una risoluzione veramente alta hanno una luminosità molto molto alta date qua qua siamo a metà e la luminosità è già ottima difficile dire che ce l'abbia più alta per me sono direi equivalenti come tonalità volevo fare un mini un mini confronto sulla stessa pagina adesso qui non rende molto come tonalità sono molto simili forse colori un pochettino più un pochettino più naturali sul sul Priv ma roba da poco sono veramente molto simili giusto per darvi un'idea due ottimi pannelli display comunque la batteria allora l'amperaggio è molto simile siamo intorno a 3400 mh per entrambi batteria mi dura un po' di più sul 6p diciamo sulla misura di schermo acceso in più col mio solito utilizzo sono assolutamente buona comunque anche sul Blackberry Priv per il resto la recessione è migliore sul Priv senza nulla togliere al Huawei che si difende comunque molto bene però che in alcuni punti critici ha perso purtroppo il segnale cosa non mai buona e parliamo adesso di fluidità come fluidità sinceramente è meglio il Nexus è a basti lo direte abbastanza scontato ma il Nexus personalmente lo trovo più fluido adesso questo ha già Marshmallow questo ancora Lollipop magari con Marshmallow sul Priv le cose migliore hanno che qui altro discorso la fotocamera fotocamera che è considerando i device passati delle due serie una rivelazione in entrambi i casi i Nexus i Blackberry non sono mai stati chissà che cosa nella qualità fotografica quest'anno però c'è stato diciamo un un miglioramento evidente la qualità è decisamente migliorata ci troviamo con un con un sensore che ha una risoluzione veramente ottima una nitidezza da riferimento oserei dire l'ottica non è stabilizzata ma comunque è molto buona anche le foto con scherzo l'umidità vengono molto bene quindi io sono decisamente soddisfatto dalla fotocamera le opzioni non sono tante fotosphere questa è la google camera chiaramente panoramica sfocatore obiettivo abbiamo qualche impostazione un attimo solo ecco soluzione qualità fotocamera da 12.2 megapixel lo ricordo fotocamera da 8 megapixel e griglia salvo localitario le opzioni sono veramente poche poche come anche nel blackberry quindi hanno una cosa in comune ecco qua qui abbiamo un po' di filtri l'hdr postazioni ancora di meno la qualità purtroppo spuscele tra fine standard fine per risparmiare sul peso delle foto stazione video stabilizzazione video griglia e salvataggio una scheda di memoria quindi poche opzioni in entrambi ma risultati ottimi in entrambi per me le foto sono tranquillamente paragonabili come risoluzioni e intidezze anche i scatti al buio vengono molto bene diciamo quindi foto approvate diciamo su entrambi forse non le migliori mai viste ma comunque molto buone su tutti e due i device questi sono il blackberry preview e il nexus 6p prezzi ufficiali qui siamo intorno ai 200 euro qui siamo sui 600 euro dipende dalle varie offerte dai negozi online sono due concetti diversi c'è chi vuole l'esperienza stock di android con android puro e aggiornamenti un po' di modding qui un telefono un pochettino più professionale comodissima tastiera che anche gli effetti touch vi faccio vedere si può anche fare scroll anche dall'altro anche dai lati si può sono le scorciatoie e telefono che mi piace un po' di più il privo personalmente lo preferisco per il mio uso trovo molto bello molto ergonomico il nexus è più diciamo più basilar ma anche più divertente si può smanettare quindi sono due due concetti differenti che abbiamo voluto comunque paragonare oggi in questo video per adesso è tutto